buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale stasera andiamo a commentare la partita appena terminata pisa vicenza o meglio vicenza pisa finita al romeo menti di vicenza 4 a 4 bene allora il vicenza è sceso in campo con un 4 4 2 mentre il pisa ha riproposto un 4 3 1 2 bene andiamo a vedere le formazioni veloci credi in porta per indelli caracciolo guarni al pisano mazzitelli debiti scuque video masucci marconi il mister ha messo praticamente video dietro a masucci e marconi queste diciamo è stata la novità di oggi la squadra è scesa in campo secondo me con le idee giuste e la mentalità giusta e purtroppo al nonno del primo tempo poi ritrova la rete su svarione difensivo di perdilli c'è o meglio per il riesce a vuoto e quindi il gioco facile per insaccare la prima rete il pisa non si dà per vinto bene una bella reazione data avanti ha cercato di pareggiare diciamo così la gara e ha trovato il pareggio su rigore rigore sacro santo quindi marconi insacca al diciannovesimo per primo tempo quindi si pareggia diciamo così la partita dopodiché al 26esimo perché il pisa ha ancora la spinta in avanti quindi al 26esimo video insacca e quindi è la è il 2 a 1 il pisa momentaneo e che dopo diciamo così maggiorini ancora al 42esimo sempre primo tempo insacca bene da dire nel primo tempo questo che pisano al 36esimo praticamente rimedia l'ammunizione giusta è per carità e al 39esimo insomma di ammunizione insomma di ammunizione quindi solo dopo tre minuti viene diciamo espulso dal campo di gioco quindi il pisa dal 39esimo e tutto tutta la fine del primo tempo si trova in 10 e poi è costretto giocare in 10 anche tutto il secondo tempo bene le squadre rientrano in campo per la disputa della ripresa e il pisa trova anzi cappelletti al 56esimo trova la rete del 3 a 2 una bella rete insomma va bene belli non può niente diciamo così e niente cappelletti in sacco quindi Guker a 12-13 metri dalla porta lascia andare una bomba di destro e al 63esimo praticamente porta le due formazioni sul momentaneo pareggio del 3 a 3 quindi al 73esimo sempre Guker con una bordata di destro diciamo così porta il pisa in vantaggio per 4 reti a 3 e sul sbarione difensivo al 74esimo ma ci voleva lo sbarione difensivo perché se no non eravamo noi diciamo così da riva in sacca e praticamente porta le due formazioni sul 4 a 4 quindi sul pareggio poi ci sono state le uguali sostituzioni si è Gallisi per De Viti Servido e Belli e Mari per Mazzitelli e Masucci ecco diciamo così questa è stata a grandi linee la partita una bella partita ecco da entrambe le parti insomma tutto sommato veramente una bella partita da entrambe le formazioni entrambe le formazioni che erano alla ricerca della prima vittoria come io ho detto in live insomma Vicenza non farà una passeggiata e effettivamente non ha fatto una passeggiata è stato veramente scusate bel gioco bel gioco sia da parte di Vicenza che da parte del Pisa contro la colpa di destra e sinistra cioè nel senso è stata veramente una partita bella sotto ogni aspetto e sotto ogni punto di vista poi tutto sommato abbastanza corretto ora al di là di Pisano va bene quello troppo è così comunque noi dobbiamo ragazzi sicuramente ormai il problema del Pisa è assodato è quello difensivo diciamo così non c'è niente da fare o riusciamo ad arginare questo problema e poi a gennaio diciamo così prendere un elemento o due per arginare questa situazione altrimenti la vedo dura nel senso non lo so ora non dico soccombere tutte le volte ma c'è nel senso anche oggi la formazione si è trovata in dieci si è trovata in dieci e alla fine veramente hanno dato veramente di tutto e di più il massimo insomma ecco per ragazzi per arrivare insomma al pareggio sembrava una vittoria insomma alla fine poi al 73esimo poi al 74esimo abbiamo avuto il solito sbarione difensivo che ha portato alla fine a insomma a vedere a vedere sia sia il Pisa che il Vicenza al pareggio va bene ragazzi i problemi sono questi non c'è niente da fare se vi è piaciuto questo video pollici su e se iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ricordatevi una cosa il Pisa resta e tutto il resto passa va bene ragazzi grazie e alla prossima ciao ciao